Vi invitiamo a seguire con attenzione questo filmato sulle procedure e dotazioni di sicurezza di questo aereo. Ladies and gentlemen, we kindly ask you to pay attention to the following presentation of safety procedures of this aircraft. Il bagaglio a mano deve essere sistemato negli alloggiamenti sopra di voi o sotto la poltrona davanti a voi. Your hand baggage must be placed in the overhead lockers or under the seat in front of you. Un sentiero luminoso faciliterà il raggiungimento delle uscite. An illuminated escape path marking will help you to reach the exits. In caso di rapido abbandono dell'aereo, lasciate a bordo il bagaglio a mano. In caso di rapido abbandono dell'aereo, lasciate a bordo il bagaglio a mano. La nebbia che si posa la mattina, le pietre di un sentiero di collina. Il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si sciole, il sguardo di serenità. La mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca e canto, la primavera e canto, la mia preghiera e canto, per chi mi ascolterà. Da piena di mattina, è l'ascensore che non va, l'amore per la mia città, la gente che sorriderà lungo la strada, i rami che si intrecciano nel cielo. Canto, le mani in tasca e canto, la voce in festa e canto, la banda in testa e canto. Canto, le mani in tasca e canto, le mani in tasca e canto. Canto, le mani in tasca e canto. Canto, le mani in tasca e canto. Canto, le mani in tasca e canto.